messaggio di meggiorie del 25 dicembre 2020 dettato a maria cari figli vi porto gesù bambino che vi porta la pace colui che è il passato il presente e il futuro del vostro vivere figliuoli non permettete che si spenga la vostra fede e la vostra speranza in un futuro migliore perché voi siete stati scelti per essere i testimoni della speranza in ogni situazione per questo sono qui con gesù affinché vi benedica con la sua pace grazie per aver risposto alla mia chiamata